Potenziare il numero delle corse della navetta che effettua il servizio di trasporto che collega l'aeroporto di Bari alla città di Matera, così da contenere i tempi di attesa dei viaggiatori sia in arrivo che in partenza, e l'impegno richiesto alla Giunta regionale con la mozione presentata dal consigliere del Movimento 5 Stelle Perrino, approvata all'unanimità dal Consiglio regionale. Con la mozione si evidenziano i disagi a cui sono sottoposti spesso i viaggiatori, costretti a sopportare sfibramti ed estenuanti attese per riuscire a prendere la navetta che li condurrà a Matera, oppure di stazionare in attesa dell'imbarco all'aeroporto di Bari, e ciò per via degli orari della navetta che non sono programmati in relazione e connessione agli orari di arrivo e partenza dei voli. Da qui la richiesta di atti e provvedimenti da prendere d'intesa con la Società Aeroporti di Puglia S.p.A., il Comune di Matera e altri enti interessati per un servizio la cui importanza è ulteriormente accresciuta dall'evidente e risaputo gap della mobilità ferroviaria lucana che penalizza in particolar modo la città dei Sassi.